La mentalità materialistica moderna vede la vita in relazione al successo politico, economico, sociale. Mancando una visione etica e cristiana si può sviluppare la logica del suicidio, della guerra, del razzismo. Gesù afferma che l'uomo vale più del cibo e del profitto. Il messaggio della Sagra Scrittura ci dice che Dio è amore. Noi non possiamo considerare la sua prontenza nella creazione, ma possiamo farlo nel suo amore. Dalla paternità di Dio scaturisce la famiglia umana, per cui siamo tutti fratelli perché figli di uno stesso padre. Per mezzo di Cristo viene ricostituita la famiglia disgregata dal peccato. Nelle vene di Cristo Dio scorre sanque umano. L'uomo, sollecitato dalle sue passioni e dall'influsso diabolico, disprezza suo fratello e diventa Caino. Uccidere un uomo è uccidere Cristo, che si è fatto uno con ogni uomo. Vivere diritto, dovere dell'uomo. La vita è un dono di Dio e solo lui ne può disporre. Mediante i suoi precetti e l'istinto di conservazione vuole che dispendiamo ed amiamo la vita propria e quella degli altri. Come l'uomo non ha il diritto di uccidere, così non ha alcuna facoltà di mettere termine alla sua vita. Ci sono però delle cause che possono spingere a mettere a repentaglio la nostra vita. Gettarsi in mare per salvare chi sta affogando, curare i malati contagiosi, rischiare la vita in un incendio. Gesù dice, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici.